li faccio correre tu se potevi li potevi prendere anche da dietro vada ce li ho più o meno in tra visti ma non riesco a sparare uno preso cercano di bonificare una ied io mi sono spostato perché lì mi avevano visto grazie ho tirato un fumogeno per nascondere che ovviamente stanno da recuperare gli operatori c'è un operatore a terra ancora non l'hanno preso capace che non l'hanno visto signori un operatore a terra ma mi sa tanto che non lo vanno a prendere capace che non l'hanno neanche visto a me mi hanno ucciso eh ah ok sto tornando con l'rpg a presto a presto a presto a presto a presto Adesso non ho visto me Eh ma adesso li voglio dentro Adesso gli faccio il giro da dietro con la macchina Grazie 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 Vedi se riesci a dirmi se posso sparare sulla mina numero uno Grazie 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 Vabbale Grazie Grazie per fortuna i muri ti ritengono se ancora vivo affermativo come si incazzano come si incazzano guarda che l'ho presi con il pazzuca li hai presi? penso di si dai non ti preoccupate tengo più o meno distratti io quelli che stanno qui su mi sa che sono due squadre divise comunque peccato